Indice DAX a due ore, oggi la candela chiave è stata la prima, questa segniamocela e teniamola presente per i prossimi giorni perché un'apertura gap al ribasso in area 11 e 8, la piena fascia di resistenza, vedete questa in azzurro, ieri avevamo chiuso qui all'interno e vi avevo detto che al superamento di questo poi saremmo andati a testare il fascione, così è stato, ma la partenza di stamattina è stata molto significativa perché c'è stata un'apertura a gap al ribasso qui dove mi trovo adesso e poi due ore molto forti al rialzo di acquisto, una candela di pausa che è quella nera, adesso tolgo il disegno verde per far vedere meglio il piccolo pullback che c'è stato fra le 11 e le 13, poi pomeriggio molto forte con l'apertura di Wall Street che è andata anche a rialzo a valle dell'esito delle elezioni, non tanto perché ci sia l'elezione del Presidente ma quanto perché si è formata una situazione in Parlamento per cui si ritiene meno probabile a causa del fatto che le due camere sono sotto controllo di partiti diversi, si ritiene meno probabile la tassazione delle big del settore tecnologico, quindi è andato molto forte il Nasdaq, lo vedremo fra poco, ora non entro molto nei dettagli, comunque il post elezioni si sapeva che avrebbe portato volatilità, in questo caso ha favorito il recupero dei livelli molto importanti in area 12 e 3 per il DAX, questa sull'intraday disegnata è una figura di Tower Bottom nel candlestick, quindi in teoria questo è un minimo importante di reversal per cui le probabilità che questo movimento possa proseguire sono buone, certo mi attendo che qua ci sarà battaglia anche perché ora abbiamo il fascione che viseremo meglio su Scala Daily, abbiamo la media 200 che scende, quindi è da vedere se si riuscirà a superare questi livelli chiave, viceversa chiaramente adesso questo livello diventa molto importante e prima di esso appunto teniamo presente questa candela, la base di questa candela è un supporto molto importante che non deve essere violato al ribasso 11 e 9, comunque i livelli sono sempre quelli, alla fine vedete che coincidono i calcoli, questo 11 e 8, 11 e 9 sta girando da settembre, qui se andate a vedere i video di questo periodo, a settembre da questo impulso era nata una proiezione verso area 11 e 8 che si è poi materializzata diverse settimane dopo, ma non sono previsioni, quello che volevo chiarire anche con alcuni amici che mi chiedono appunto parere se il DAX possa fare questo prima di fare quell'altro, se si sta formando un testespalla, non funziona così, cioè nel senso che l'analisi tecnica ci aiuta a stabilire degli scenari e poi in base al comportamento del mercato cerchiamo di capire qual è il percorso di minor resistenza per i prezzi, so che sono discorsi un po' difficili da fare su video al volo, così comunque io a settembre non ho predetto che, perché qua nessuno ha la palla, quindi io ho semplicemente detto che dal punto di vista tecnico questo tipo di impulso apriva la strada, qualora poi si fossero rotti certi supporti eccetera, ha un obiettivo naturale a 11 e 8, è un pattern tecnico, non è una previsione alla nostra damus, non so se riesco a far capire questo concetto, magari mi piacerebbe poi un giorno in una diretta, quando poi le riprenderemo, magari discuterne più in particolare, quindi non riesco neanche a rispondere alle domande su cosa farà il DAX prima piuttosto che dopo, se va prima di là e poi di qua, se prima testa a 11 e 5 e poi torna a 11 e 100, non funziona così, cioè noi non facciamo la previsione su quella che è la figura che si può sviluppare, io posso dire che questo è come vi dicevo un tower bottom, si chiama, che statisticamente è un minimo importante dal quale partono dei movimenti, statisticamente, quindi siamo sempre su base probabilistica, se poi domani mattina succede quello che succede, i prezzi partono e rompono i supporti, è un altro scenario, i prezzi oggi questo non sanno, non sanno cosa c'è nel futuro di non scontato nei prezzi oggi, quindi le sorprese non ci sono. Un attimo che, sì, c'è stata un'interferenza di una notifica, Allora, questo anche per dire che da un punto di vista di analisi tecnica, tra l'altro il superamento di 12 e 4 chiude un certo discorso relativo, adesso poi magari passiamo alla Scala Daily, lo faccio vedere meglio, questo impulso, l'impulso che è sceso a settembre, un'onda 1, chiamiamola così per chi segue la teoria di Elliot, questa potrebbe essere una 2 e questo è l'impulso principale onda 3, ok? Se questo movimento correttivo si va a sovrapporre alla onda 1, finita qui, per l'analisi di Elliot, quindi se dovessimo proseguire in su e andare a portarci, a sovrapporci all'onda 1 che è scesa a settembre, questo scenario ribassista verrebbe completamente negato, capite? Quindi, ecco, questo può fare l'analisi tecnica, quindi andare a vedere giorno dopo giorno i segnali, vedere se i pattern vengono rispettati, vedere se gli obiettivi di prezzo naturali che scaturiscono dalla formazione di certe figure vengono raggiunti, stabilire delle zone supporto-resistenza e vedere i prezzi dove tendono a muoversi con maggiore facilità. Indubbiamente negli ultimi due giorni abbiamo assistito a un rally molto potente che, secondo me, ripeto, superate queste resistenze a 12,3, ha buone probabilità di proseguire, ok? Però uno step alla volta, adesso in due giorni siamo arrivati a razzo sulle resistenze, avevo avvisato, chi segue lo sa, di stare attenti con le posizioni short, ci avevo anche intitolato un video due giorni fa, metto il DMI, siamo adesso in un'zona neutra, quindi anche il DMI, vedete, si è portato sul DAX in zona neutra, quando cominciano a incrociarsi i plus e il minus, la DIX si sta resettando, quindi secondo me da qua potrebbe adesso esserci una fase di consolidamento da cui poi capiremo, dobbiamo cercare di capire da che lato proseguiamo successivamente a questo consolidamento. Bene, il Futsimib, un po' più squilibrato come indice, perché l'abbiamo sempre detto, più pesante sui bancari, però oggi con una situazione in cui Enel più 2%, bancari bene sia intesa che Unicredit, bene Nexi, quindi titoli abbastanza importanti sul listino, quindi addirittura il Futsimib ha superato la fascia molto importante in area 19.000, quindi è un passo avanti, e diversi giorni che il Futsimib è in sovra performance sul DAX, che chi segue lo sa, non sto a ripetere, è stato assofferto parecchio per SAP, che è il suo principale titolo, che continua nel rimbalzo, però vedete è scesa così tanto che più 3, ripeto, neanche si vede, comunque valutiamo questa formazione di reversal che sta prendendo corpo per eventuali long su un titolo del genere che potrebbe essere interessante a queste quotazioni. Va bene, io uscirei un attimo dalla scala Intraday a due ore per guardare il, ecco questo, devo cancellare un attimo i disegni verdi che vengono dalla scala Intraday, va bene, e quindi qui siamo, vedete gli obiettivi che sono stati raggiunti qui in area 11.5, con le due linee bianche, 11.5 e 11.000 più sotto, all'epoca vi dissi che questa fascia di supporto era molto importante e ha fatto il suo lavoro per il momento, quindi cerchiamo, appunto adesso, vi faccio vedere il famoso, la fascia, ecco scusate ma era per fare chiarezza un po' nel disegno, questo è il famoso fascione, chi segue sa, ne abbiamo parlato tante volte, molto importante, 12.3 non doveva essere rotto al ribasso e quindi se viene recuperato è sicuramente da un punto di vista della struttura appunto di questo mercato che in questo momento, vedete, con la media 200 giorni piatta anche se ha iniziato a flettere verso il basso, quindi molto pericolosa questa situazione, per cui è opportuno che i prezzi tornino sopra, tempo fa vi dissi anche che uno scenario probabile era un trading range attorno alla media 200, molto spesso queste situazioni si sviluppano in questo modo, quindi ecco questo è giusto per dare il quadro daily, per vedere il punto dove ci troviamo. Va bene, mi sono un po' dilungato, chiudo velocemente con uno sguardo a Enel, un amico mi chiedeva di vedere Enel a che punto siamo, Enel ormai è il nostro titolo principale, il titolo a maggiore capitalizzazione del listino, Enel è in situazione assolutamente analoga rispetto a quella degli indici principali, quindi una conformazione molto rialzista questa che ha fatto, con un look below and fail anche durato diversi giorni, cioè significa che i prezzi sono andati al di sotto dei supporti chiave e questo è un failure notevole con un veloce rientro sopra le resistenze, quindi è importante che si riesca a chiudere la settimana sopra area 7.3, per me questo potrebbe essere un segnale molto molto interessante per un titolo come Enel, però ecco la settimana non è finita, ora qua stiamo ragionando su scala daily, quindi occorre prudenza, siamo sulle resistenze vi ricordo, siamo sulle resistenze e qui siamo anche su una trendline discendente, anche se noi non usiamo tanto le trendline come strumento, però comunque ci sono, io non le uso personalmente, mi abbalgo di altri tool, l'analisi tecnica è fatta, però siamo sulle resistenze qui, quindi attenzione perché non farsi sempre, cercare sempre di mantenere un certo equilibrio, sia nei rialzi, nei ribassi, non farsi prendere la mano dall'entusiasmo, anche se indubbiamente, e lo ripeto, oggi è stata una giornata positiva per tutti i segnali che ha dato nel corso della giornata, va bene, non c'è il tempo di guardare gli indici americani, li vedremo un po' meglio domani, per il momento vi ringrazio dell'attenzione, se avete commenti lasciatemi pure come al solito sotto negli appositi spazi, per il resto ci aggiorniamo a domani.